Il risultato era scontato, ma non con queste proporzioni. Su 17.800 e più votanti, Matteo Renzi ha ottenuto più di 13.400 preferenze, pari al 75 e 65%. Al secondo posto, in controtendenza con il risultato nazionale, la provincia di Macerata ha espresso Pippo Civati, che con i suoi 2.252 voti ha superato Gianni Cuperlo, fermo a quota 2073. Dunque, la giornata di sole di primo shopping natalizio ha portato nei 59 seggi provinciali una marea di elettori, superando di circa 1.500 unità le primarie di un anno fa che avevano visto sfidarsi sempre Renzi con Bersani. Nella città di Macerata, il sindaco di Firenze ha ottenuto qualcosa in meno della percentuale provinciale, con 1.991 preferenze sui 2.700 voti totali, con Gianni Cuperlo staccato di oltre 100 voti anche da Pippo Civati, il quale ha invece raccolto 471 voti, pari a più del 17% delle preferenze. A Civitanova Marche, Renzi è invece andato meno bene, pur ottenendo il 68% dei voti. Nella città, infatti, del vice sindaco Silenzi, Gianni Cuperlo ha raccolto un buon 18%. A Tolentino Renzi vicino all'80%, con Civati e Cuperlo quasi alla pari al 10%. A Recanati Renzi al 76%, Civati al 12% e Cuperlo a 11%. Molti commenti a caldo, anche affidati ai social network, con un unico comune denominatore, la soddisfazione per la straordinaria affluenza di pubblico nei seggi, vista dai nostri politici come una vera e propria festa della democrazia e come una richiesta da parte dell'agente di un nuovo cambiamento.